Ambiguità della regione Abruzzo sul caso Trivelle, a parlare Forza Italia che sottolinea l'assenza di iniziative da parte del governo regionale a una settimana dal voto, ricordando che l'estrazione di idrocarburi prevista davanti alle coste abruzzesi garantirebbe solo l'8% del fabbisogno nazionale, facendo guadagnare royalties bassissime a fronte di un rischio ambientale molto alto. Noi stiamo mobilitando tutte le nostre strutture per invitare l'Aggiunente a regarsi alle urne e votare sì al referendum, coerentemente con una battaglia che abbiamo fatto ormai da anni, sempre dalla stessa parte e sempre con le stesse tematiche. Viceversa vorremmo sapere che cosa fa il Partito Democratico del Presidente D'Alfonso, che non soltanto non risponde alle interrogazioni e all'ordine del giorno del Consiglio regionale, ma che aveva addirittura fatto quella vergognosa retromarcia di ritirarsi dal quesito referendario che oggi andremo a sostenere e a votare il 17. La bufera non passa, noi alzeremo i toni in questa settimana, faremo manifestazioni in tutto il territorio, sperando che la sensibilizzazione sia massima e conseguentemente anche l'affluenza alle urne. Ma qualora non dovesse succedere questo e qualora vergognosamente il PD riuscirebbe nel suo intento di far saltare il referendum, si capirebbe le motivazioni. Tempa rossa, penso che sia quanto mai caduta a proposito per capire da che parte sta il Partito Democratico.